Con Enrico Zampa uno dei protagonisti, dei volti nuovi di questa stagione, sicuramente grande soddisfazione, un inizio migliore di questo campionato non ci poteva essere. Sì esatto, abbiamo iniziato nei migliori dei modi, dopo una partita non bella a Fasano siamo contenti ma c'è tanto da lavorare, siamo un bel gruppo fatto di ragazzi giovani e di ragazzi più grandi con esperienza. Ora godiamoci questo momento però bisogna lavorare tanto perché sapete meglio di me che soprattutto quest'anno è un girone infernale dove non ci sono partite facili. Abbiamo visto che siamo partiti forti, poi loro sono stati in bravi a pareggiarci e nonostante comunque era una squadra abbastanza giovane ci hanno dato del filo da torcere in alcuni fragenti della gara che poi abbiamo portato in porto nei migliori dei modi. È uno spettacolo vedere i nostri tifosi che ci incitano e sapete meglio di me che questa è una piazza che se noi riusciamo con le prestazioni, l'entusiasmo, l'atteggiamento che ci chiedono possiamo veramente, non dico riempirlo ma siamo lì.